Pagina sportiva ben trovati. Il Perugia esordirà la nuova stagione agonistica in trasferta contro il Varese, squadra che ha vinto il suo campionato di seconda divisione, il cui direttore sportivo è proprio l'ex Grifone, è stato uno dei grandi protagonisti, Sean Soiano. In campo, fino al giugno scorso, c'è stato anche Mauro Milanese con il Varese, ma il giocatore, l'ex Grifone, ha deciso di risolvere consensualmente il suo rapporto, aveva ancora un altro anno di contratto per dedicarsi ad altre attività milanese, presto farà un corso per divenire agente FIFA, ma anche interessato al corso di allenatore. Dunque sarà il Varese il primo avversario del Perugia che, strano il destino, concluderà il suo campionato all'ultima giornata in casa contro il Foligno, un Foligno che invece esordirà proprio con la formazione del Benevento. Poi la 34esima giornata vedrà la squadra bianco-azzurra impegnata proprio al Renato Curi nella speranza, l'ospiccio di tutti, che tutto possa risolversi con una festa per tutti. La Ternana giocherà invece la prima partita in trasferta contro l'Andria Bat, mentre il Gubbio in seconda divisione giocherà in Veneto contro l'Itala San Marco. Comandiamo con l'asile della grafica a andare a vedere il calendario di Perugia e Foligno. Iniziamo con i Grifoni, le date più, le partite più importanti. Dicevamo la prima partita in trasferta contro il Varese, la 34esima ultima di campionato contro il Foligno. L'esordio casalingo per i Grifoni avverrà al Renato Curi alla seconda giornata contro il Figline. Per quanto riguarda invece le Coppiole, cioè le due partite in casa e le due in trasferta, Perugia giocherà due partite in casa alla sesta e alla settima giornata, il 27 settembre e il 4 ottobre contro Monza e Viareggio, mentre la decima e l'undicesima, il 25 ottobre e il 1 novembre, Coppiola in trasferta contro Novara, una delle favorite alla vittoria finale in Lumezzane. La partita, il derby contro l'Arezzo, si giocherà invece alla dodicesima giornata, l'8 novembre, mentre l'altra sfida, una delle grandi favorite, il Benevento alla Santa Colomba, la quindicesima e dunque penultima giornata di campionato contro il Benevento il 29 novembre. La 33esima giornata, cioè la penultima di campionato, il Perugia la giocherà in un campo assai ostico, il Marcello Torre di Pagani, per poi chiudere in casa contro il Foligno. Foligno che partirà invece in casa contro il Benevento il 23 agosto, mentre la seconda giornata vedrà impegnati i Falchetti in trasferta contro il Pergocrema. Foligno che ha un calendario simile a quello del Perugia perché ha una Coppiola, anche se in trasferta contro Lecco e Monza, sesta e settima giornata, e dunque il 27 settembre e il 4 ottobre, mentre ospiterà in casa l'Arezzo all'ottava giornata. La Coppiola in casa invece arriverà la decima e l'undicesima giornata contro Sorrento e Como, mentre l'ultima partita di campionato in casa il Foligno la giocherà contro il Figline. Andiamo a vedere invece nell'altro girone la Ternana, Ternana che sordirà in trasferta contro l'Andrea Batte il 23 agosto, mentre concluderà sempre in trasferta la sua stagione alla 34esima giornata al Giglio di Reggio Emilia contro la Reggiana. L'esordio casalingo vedrà la Ternana opposta alla Taranto alla seconda giornata, mentre la prima sfida di livello arriverà alla settima in trasferta contro il Pescara. Solo una Coppiola per la Ternana all'undicesima e dodicesima giornata, quando i Rossoverdi di Baldassari giocheranno contro Portogruaro e Lanciano in trasferta, è chiaro che poi avranno questa possibilità in casa nel giurone di ritorno. La penultima partita di campionato, la Ternana giocherà in casa contro il Giulianova del Perugino Campagnaccia. Andiamo a vedere anche il calendario del Gubbio. Gubbio che giocherà in trasferta la prima giornata contro l'Itala San Marco, mentre la sfida dal sapore antico contro il Poggi Bonzi si giocherà l'ultima giornata di campionato. Dunque Poggi Bonzi-Gubbio alla 34esima giornata. Per quanto riguarda invece le Coppiole, il Gubbio avrà subito una doppia partita in casa, la seconda e terza giornata dopo la trasferta contro l'Itala San Marco. Arriveranno Bellaria e San Marino, mentre le sfide più importanti Gubbio lo giocherà in casa, nel giurone di andata, alla settima giornata contro la Lucchese, alla nona contro la Nocerina, l'undicesimo il derby contro il Fano. L'ultima giornata di campionato in casa il Gubbio affronterà il Prato prima della trasferta, appunto dicevamo di Poggi Bonzi. Torniamo agli orari per quanto riguarda invece la Lega Pro che sosterà il 27 dicembre per la sosta natalizia e quindi anche il 3 gennaio, poi soste anche per il 14 febbraio 2010 e il 28 marzo 2010. Si giocherà di sabato il 3 aprile, anticipo della Pasqua, mentre il campionato terminerà il 9 maggio. La prima giornata si giocherà alle ore 16, così come la seconda giornata in casa contro il Fighine. Dalla 6 settembre 2009 si giocherà invece alle 15, dal 25 ottobre alle 14.30, dal 28 marzo di nuovo alle 15 e quindi dal 23 maggio di nuovo alle 16.